Le squadre al centro del periodo di gioco, il saluto della sua reforma, è il 78esimo campionato italiano di pallavolo Superlega tra le banche, la terza giornata di annata, Cucine, Lube, Cilicanova, Valsa, Gruppo, Modena, le banche danno il posto del campionato di pallavolo maschile di Superlega, Serie 2 e Serie 3, il nostro modo di fare banca finalmente il nome è Welbeckin, una parola alle persone che fanno le cose così bene da far fissare bene in balca e fuori, seguici su Instagram e vivi la pallavolo da protagonista, credemme, Welbeckin Bicol, il pallone ufficiale della partita è il Mikasa B200W. Il saluto dell'Aerosole Forum ai direttori di gara, il primo arbitro è Andrea Puecher di Padova. Grazie, buon lavoro. Secondo arbitro, Ilaria Bagni di San Sisto, grazie e buon lavoro. Il saluto del Forum manca, terzo arbitro, Luca Saltalimpi di Torgiano, al detta Alpidio Cecca, Zurra Marani di Bastia e la segna punti Cristina Santinelli di Corridonia. Buon lavoro a tutti ragazzi. Si passa agli starting six delle due squadre, iniziamo dagli otti della valsa, Gruppe Modena in campo con il numero uno, Bruno Bossa delle Sege. Il numero sette, Draga Stankovic. Il numero nove, Ervinga Petter. Il numero undici, Tobias Crick. Il numero dodici, Aris Lagunzia. Il numero novanta, Tommaso Rinaldi. Il numero cinque, Riccardo Bullini. L'allenatore Andrea Gianni. Il vice allenatore, Sebastia Carotti. Arrivano i ragazzi, signori e signori. Noi siamo l'upe. Con il numero nove, Ivan. Con il numero dieci, Martemi. Con il numero quindici, Lusiano. Con il numero diciassette, Simone. Con il numero ventuno, Mattia. Con il numero ventitre, Marlon. Il libero con il sette, Fabio. L'allenatore Gianni Lorenzo, Chico. Il vice allenatore, Romano.